mi sono trovata a casa perché essere dentro una casa diciamo qui alla riabilitazione per i denti sono venuta qui perché stavo incominciando a perderli e poi la faccia quando ti mettevi a parlare o qualche cosa perdeva la sua gioia diciamo del viso con o senza però sai quando aprivi la bocca cercavi di nasconderti no adesso mi nascondo niente mi sono trovata bene sia con i medici io dico medici dentisti e tutto mi sono trovata non bene di più sa per la prima volta che sono venuta avevo paura del dentista di colabita come mi sta facendo appunto io sono entrata in panico ieri mi sono trovata bene nel gruppo non so come sono è quelli del gruppo e non gente tranquillona no bello una bellissima esperienza stata guarda no non ho niente da rimproverarmi ti dico una cosa con i provvisori per me sembra i definitivi dico la verità mi sono trovata bene sia con i provvisori che anche con questi definitivi se è possibile chi ce la fa chi non ce la fa venite perché vi trovate in un altro mondo in una famiglia più che un altro mondo si va d'accordo con chi lavora proprio dentro dei dentisti a chi ci lavora attorno a chi ci lavora a chi 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 Grazie a tutti.